Buongiorno a tutti. Sì, vorrei ringraziarvi per la pazienza e anche proporvi questo modello. Dera Merkel, posso? Sì, le domande sono libere, le risposte sono numerose, quindi va bene l'ultima? Sono ancora fatta. Ho finto un posto, mi perdonerai una domanda di esteri a partire dalla telefonata che ho avuto questa mattina con la cancellazione sul raggiungimento di un accordo sulla Grecia oggi all'eurogruppo e se avete parlato di Libia e di coinvolgimento della Russia. Grecia e Libia, bene. A proposito di ciò che è successo in questi giorni a Roma, volevo sapere da lei, problemi di sicurezza, il sindaco Marino si è molto lamentato, se intende, diciamo così... Solo perché sia trasparente e chiaro il nostro rapporto, io ritengo, atteso da un'intera generazione, vedo che la sensibilità maggiore è su argomenti che riguardano altro e naturalmente questo mi fa riflettere su di me, mica su di voi, però mi fa molta impressione perché...